L'Abruzzo chiede di più. Chiede di più al governo che in prima battuta aveva stanziato fondi dedicati esclusivamente ai danni causati dal terremoto. Ma l'Abruzzo è stato ferito anche da un'ondata di maltempo eccezionale, che continua proprio in questi giorni a spaccare il territorio. Dopo la nevicata che ha isolato per molti giorni intere comunità, l'emergenza ora è quella delle frane, che hanno investito già la provincia di Pescara con quella di Penne. Il centro di Chieti con le due voragini che hanno spaccato la città, il centro di Teramo e anche la sua provincia con il caso della collina di Ponzano, che ha richiesto lo sgombro di 24 abitazioni. Proprio ieri è arrivato l'atto che ha conferito al governatore D'Alfonso il compito di quantificare tutti i danni da risarcire nelle aree fuori cratere, grazie ad un'ordinanza ad hoc per l'Abruzzo, firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Nel frattempo a rivolgersi al governo è anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Mario Mazzocca, che ha provveduto ad inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, congiuntamente a Curcio, la richiesta di uno stanziamento di specifiche risorse economiche pari a un milione e mezzo di euro da destinare ai comuni interessati dai rifiuti spiaggiati a causa delle mareggiate, causate proprio dall'ondata eccezionale di maltempo. Si tratta di rilevanti quantitativi che mettono in crisi i comuni costieri, costretti a stanziare grosse somme di denaro per poter ripristinare le spiagge e preparare una stagione balneare già complicata, come nel caso di Pescara, inquinata dal fiume. Tanti fronti sui quali intervenire per rimettere in piedi una regione divenuta il centro di una serie di avversità, che oggi spaventa amministratori e cittadini, una lunga battaglia che prosegue per intervenire in tempi celeri e ripristinare territorio e soprattutto la sua economia.